Nel 1555 Giulio III improvvisamente muore e la tesoreria pontificia reclama il palazzo in quanto pagato con dei fondi pubblici. Nell'ottobre del 1560 Cosimo I, venuto a Roma con ampia pompa per orare con la moglie e il figlio cardinale Giovanni per cercare di avere il titolo di re o comunque su un titolo più alto di quello di duca, facendo leva sul fatto che il palazzo era stato costruito anche stato decorato e in funzione delle nozze non avvenute con una delle sue figlie, riesce a ottenere in certo modo la proprietà, la giurisdizione di questo palazzo. Anche perché era diventato papa più quarto medici, non un medici toscano ma un medici di Milano, ma che ci teneva molto a sottolineare comunque questa affinità con Cosimo, anche se non la parentela e che quindi favorisce questa operazione di appunto avvantaggio di Cosimo I e in particolare di suo figlio cardinale Giovanni, il quale si sarebbe appunto insediato nel palazzo. Il cardinal Giovanni insieme alla madre e fratello muore repentinamente e Cosimo, seguendo la tradizione di famiglia in cui ci doveva essere sempre un cardinale, riesce a ottenere il cardinalato per il figlio adolescente, Ferdinando. Il suo arrivo avviene il 4 marzo del 1569 e quando il cardinale scrive insediato nel palazzo, scrive al padre. Sostanzialmente Giovanni de' Medici dice, da bravo appunto toscano, io qui sto stretto, non mi rappresento abbastanza bene, la casa ha dei difetti, bisogna intervenire e devo avere tutto a disposizione e portata di mano, mi devo far valere sulla piazza. Era un giovanissimo, aveva neanche vent'anni, ma già aveva le idee molto chiare. E però la prima cosa che fa costruire è, essendo molto giovane, un pallatoio, cioè una pallacorda per fare sport, quindi molto pragmatico e comincia a chiedere soldi al padre e manda due piante, così scrive, sono le due piante per l'appunto dell'amannati. È chiamato in causa per allargare il palazzo, allargarlo per dare tutti gli appartamenti, inglobare le casette, migliorare il giardino e nel 72 Ferdinando scrive al padre, quello che c'è si può tenere, bisogna soltanto allargarsi. Quindi comodo, capace, onorato e quindi tutto viene funzionalizzato. E soprattutto all'amannato viene chiesto di sopraelevare il palazzo e questo anche per i suoi, diciamo, per forse sfruttare meglio la buona aria, come dice Ferdinando. Non dimentichiamo che il fiume è molto vicino. E quindi queste sono le necessità di Ferdinando, il quale trasferisce qui i suoi libri, i suoi argenti e comincia anche a mettere un po' le sue collezioni, sia di antichità che di pittura. E entra anche in gioco il pittore favorito in questo momento da Cadeale Ferdinando, cioè Jacopo Zucchi, al quale sono demandate le pitture di questo ultimo piano aggiunto dall'amannati, come ben visibile dalla facciata del cortile, perché si coglie bene che il piano è un po' sovrapposto, ma che è invece perfettamente integrato sulla facciata verso il giardino, che fa parte appunto delle opere volute da Ferdinando e appunto con lo sfruttamento perfetto del sito, del giardino e di ciò che già esiste e ciò che si voleva appunto migliorare.